Noi abbiamo iniziato questo tipo di controllo, di intervento sul territorio proprio a seguito di comportamenti non civili da parte di residenti e non residenti, taluni chiaramente, che ormai da anni si ripetono. Noi riteniamo, perché ci stiamo lavorando per mandato sin dall'inizio di questa amministrazione, sul decoro cittadino e quindi abbiamo inserito degli ausiliari ambientali tramite la nostra società municipalizzata, operativa, che è Ambiente S.p.A. e la nostra Polizia Municipale. Tra l'altro li ringrazio entrambe per il grande lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere. Speriamo sempre meno, perché vorrebbe dire che anche questi interventi riescono a sensibilizzare coloro che continuano a non comportarsi correttamente. Tra i vari video e tra le varie foto che sono state riprese dalle telecamere e dai nostri accertatori, c'è quella particolare di un cittadino che era anche colui che poi fotografava dei rifiuti abbandonati per strada e mandati a giornali online, in comune, alla nostra società, lamentando il non servizio, il cattivo servizio. Poi in realtà, dietro accertamenti puntuali da parte dei nostri ausiliari, si è visto che questa persona era la stessa che prendeva i rifiuti, apriva le buste e le gettava per terra. Sessore, l'obiettivo è comunque alla fine quello di avere una città sempre più pulita? Assolutamente sì. Non deve essere intesa come repressione la sanzione. Deve essere intesa intanto come un servizio nei confronti della città e di tutte quelle persone che sono chiaramente la maggioranza, che si comportano correttamente e che hanno il diritto di avere una città adeguata e pulita. E cercare di sensibilizzare coloro che invece, almeno in questi casi, non hanno avuto un comportamento corretto.